Dopo l'emergenza Covid, le problematiche restano e aumentano anche il caso di Moliseacque, che manderà a casa molto probabilmente 50 dipendenti. Una situazione davvero surreale che ha scatenato la rabbia dei lavoratori e dei sindacati che chiedono spiegazioni. Ad alzare i toni in queste ore, anche i consiglieri regionali Salvatore Micone e Andrea Delucente, che spiegano come sia intollerabile un fatto simile. Esistono delle storture, una di queste è il trattamento riservato da Moliseacque ad una cinquantina di interinali che da anni lavorano alle proprie dipendenze. L'esperienza di padre e madre di famiglia è stata così cancellata con un colpo di spugni attraverso due delibere del CDA, hanno poi spiegato. I due continuano ad alzare ancora i toni dicendo come sia davvero inaccettabile l'atteggiamento nei confronti di attivi che a fronte di uno stipendio già basso hanno offerto professionalità e disponibilità. Ma per tale motivo a gran voce pare abbiano chiesto anche le dimissioni del CDA di Moliseacque. Nei giorni scorsi intanto si era tentato anche di trovare una strada per la stabilizzazione degli interinali dell'azienda, ma senza trovare accordo. A lamentarsi di tale questione è anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Fabio De Chirico, che rammenta come gli stessi abbiano non solo vinto un reale concorso, ma abbiano anche svolto attività formativa per poter essere qualificati al lavoro da svolgere. Grazie. Grazie. Grazie.